Uscire dai luoghi quotidianamente deputati alla cultura e alla ricerca e fare della città di Cassino un unico grande salotto, capace di ospitare dibattiti, confronti, giochi e concerti. Questo è lo spirito che muove l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale con la seconda edizione di Unicittà. L'Università porta le sue ricerche in città, all'interno della città, con un linguaggio adatto alla città, quindi spero che poi possa anche portare più facilmente la città ad arrivare al campus. Abbiamo un'università un po' dislocata con la città universitaria, per cui dobbiamo fare in modo di riconnettere il tessuto urbano da un punto di vista urbanistico e funzionale, ma lo dobbiamo fare anche da un punto di vista procedurale e di presenza dell'università all'interno del territorio. Questo è il motivo per cui abbiamo dato grande sostegno a questo progetto. Si parte martedì al Bar Shine, dove con psicologi dell'Uniclam si affronterà il tema dell'amore liquido, quello labile e veloce, che si consuma come un caffè al bar. Poi, giovedì 8 giugno, il Camusac, il Museo d'Arte Contemporanea, farà da teatro al dibattito tra l'arte e l'imprenditoria, perfettamente incarnato da Sergio Longo, tra i pionieri del connubio Cassinate. Terzo e quarto appuntamento in comune il 15 e il 19 giugno, per parlare di un nuovo modo di città e del terremoto, dal problema alla consapevolezza. Quinto e ultimo momento, il 21 giugno al Parco Baden Powell con Let's Rock, storie di musica raccontate dal vivo in una lezione concerto in occasione della Festa Europea della Musica. L'Università incontra la città nella città, ed è questo già il titolo, spiega un po' qual è lo spirito di questa manifestazione. L'Università esce dal campus per portare nella città di Cassino, nel territorio, le ricerche che i suoi docenti svolgono nel chiuso dei laboratori e dei dipartimenti, cioè per rendere queste ricerche un bene comune, un bene a disposizione della crescita del territorio.